Come se li immagina il ruolo delle utilities nel futuro? Sono imprese prima di tutto, imprese con caratteristiche particolari che operano su mercati molto regolati, in cui i prezzi sono prezzi definiti prevalentemente da un'autorità, ma in un contesto che è quello di un'attività industriale di produzione di beni, di produzione di servizi in concorrenza, sia pure una particolare forma di concorrenza spesso quando si parla di servizi pubblici locali. Quindi sono aziende che hanno bisogno di migliorare la loro produttività attraverso investimenti sul versante dell'innovazione tecnologica e sul versante della qualificazione del loro personale. Da questo punto di vista sono imprese che possono giovarsi degli interventi pubblici in questo momento volti a sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica di cui ho già parlato e potranno giovarsi, se lo istituiremo come spero, di un credito d'imposta per gli investimenti in formazione che si facciano sulla base di accordi tra impresa e lavoratori che operano in quell'impresa, accordi siglati con le organizzazioni sindacali regolarmente registrati in maniera tale da non fare investimenti su formazione farlocca, diciamo così come si dice che è un'espressione che dà l'idea e naturalmente sono imprese che hanno bisogno di una grande certezza del sistema delle regole e della certezza del diritto. Da questo punto di vista sono, come tutte le altre imprese, molto interessate al buon funzionamento della giustizia civile e della giustizia amministrativa. Ancora non ci siamo, bisogna migliorare molto su questo versante.